L'anfiteatro morenico di Ivrea, una bella realtà, adesso entra anche nell'app, insomma va verso il futuro. Sì, è un bel traguardo per il nostro territorio. Diciamo che comunque l'avvicinamento a queste nuove tecnologie, al concetto di valorizzazione del territorio, ce l'avamo già arrivati da tempo. L'amministrazione comunale lavora sul piano di valorizzazione da circa tre anni, sono state fatte una serie di iniziative per mettere in rete tutti gli attori del territorio che operano in varie aree, quindi dal turismo outdoor ai percorsi religiosi o al turismo industriale, legato quindi alla storia dell'Olivetti. Tutte queste tematiche sono confluiti in quattro tavoli che sono stati il cuore del piano di valorizzazione che ha sviluppato vari progetti in questi tre anni e che nel 2012 è sfociata appunto nella realizzazione da una parte dell'app, quindi di questa application che viene presentata oggi e dall'altra della Carta degli Sport Outdoor. Finalmente si avrà uno strumento al passo con i tempi, da un punto di vista tecnologico, che permetterà al visitatore esterno, ma anche al cittadino di Ivrea, quindi agli abitanti del nostro territorio di accedere ai contenuti culturali, alle offerte culturali e turistiche dell'area in modo immediato tramite cellulare o tramite tablet o qualsiasi supporto uno abbia e poter sapere in tempo reale dove sono i luoghi, quando sono aperti, cosa offrono da vedere e c'è anche una sezione dedicata alle news, quindi sapere che cosa avviene in città e nel territorio nell'Anfiteatro Morenico in tempo reale. Questo secondo me è un grosso successo che io non vedo tanto come un punto d'arrivo ma come un punto di partenza perché penso che l'Anfiteatro Morenico, tanto per circoscrivere un attimino la parte geografica di cui ci stiamo occupando, offre delle opportunità incredibili in termini di turismo e poi io personalmente penso che offra delle opportunità incredibili in termini di turismo culturale, quindi abbiamo delle eccellenze, abbiamo tantissimo da raccontare, da offrire, da condividere con il resto dell'Italia e anche con l'estero e quindi da qui stiamo partendo per sviluppare tutta una serie di processi che porteranno alla valorizzazione e alla promozione del territorio. Stiamo facendo questo e dico stiamo anche se io sono arrivata da poco ma perché questo processo è già iniziato prima che io arrivassi come volontà dell'amministrazione comunale, un processo per far sì che esistesse una rete effettiva che coinvolgesse sia gli attori pubblici, quindi il comune, gli enti a esso collegato, sia gli attori privati. Ci sono dei tavoli di lavoro che coinvolgono ad esempio Confindustria Canavese che ha da due anni messo in piedi un gruppo che si occupa solo di turismo, che si chiama Turismo Canavese, che sta lavorando in stretto collegamento con noi per cominciare a promuovere gli operatori del settore confezionando pacchetti e prodotti turistici fatti in un certo modo. Ci sono collegamenti con le varie associazioni culturali che producono offerte in questo senso, quindi è un argomento, un tema che secondo me potrà solamente crescere nel prossimo futuro e che, da come vedo io, potrà portare dell'ossigeno vero anche al nostro territorio. L'anfiterato morenico di Ivrea offre enormi ricchezze, sia dal punto di vista territoriale che della natura, che dell'arqueologia, che dal punto di vista culturale, dei percorsi e sicuramente dal punto di vista dello sport. Abbiamo voluto racchiudere tutto questo in una carta, in particolar modo per quanto riguarda lo sport, raccoglie tutte le possibilità che ci sono di praticare sport outdoor, sport all'aria aperta nell'anfiteatro. Per intenderci l'anfiteatro morenico di Ivrea si intende quell'area circoscritta a nord dalla collina morenica della Serra, per scendere a sud verso Caluso, a sud ovest verso Cucceglio e poi salire verso la Val Chiusella. Ecco, quindi tutta quest'area offre tante possibilità di sport all'aperto. Per sport all'aperto parliamo di tutti quegli spot che non necessitano di strutture, quindi dalla possibilità di nuotare nei laghi e nei torrenti, alla possibilità di fare percorsi in mountain bike, piuttosto che percorsi a piedi, attività di orienteering, attività di equitazione, sia nei maneggi che all'aria aperta, quindi equitazione turistica di campagna e la possibilità di arrampicata e tutto quello che è sport outdoor, per non dimenticare ovviamente il nostro stadio della canoa e le attività che si possono fare nei fiumi con le canoe, e tutti quegli sport all'aria aperta che in questo momento vanno sicuramente valorizzati. Abbiamo cercato di racchiuderli tutti in una carta per poter offrire sia al territorio nostro che al turismo, al turismo italiano, al turismo estero, per avere un'offerta completa che possa attrarre persone a conoscere il nostro territorio.